Un gradito ritorno alla BMTA 2021, l'occasione della celebrazione del premio dedicato a Khalid al-Assad, anche quest'anno una scoperta importante di cui andare fieri per il nostro paese. Sì, questo premio è molto importante anche perché è stato inventato sei anni fa in memoria di Khalid al-Assad, il martire della vana difesa di Palmira. È un ottimo premio e devo dire che il premiato di quest'anno è veramente, non solo un eccellente studioso lui, ma la scoperta è veramente molto rilevante. E' una serie di rilievi dell'età imperiale Assira nell'area di Ninive, dove il professor Morandi Bonacossi sta dirigendo una impresa effettivamente rilevantissima di analisi del territorio intorno a Ninive, che significa praticamente l'entroterra della grande capitale Assira del VII secolo a.C. Le chiedo un'ultima battuta, nel corso del suo intervento ha sottolineato l'importanza di ricordare, ricordare per tramandare, ma soprattutto ricordare per non dimenticare. Io credo che sia estremamente importante ricordare secondo la realtà. Molto spesso, devo dire con grande rimpianto, parte anche con angoscia, la stampa è anche la più autorevole. La storia nazionale e internazionale segue una narrativa che è quella del momento politico, che non è della politica in generale, ma è addirittura del momento politico. Quello che invece è importante è che si ricordi negli anni futuri e a lungo questo disastro incredibile della cultura, a cui non avremmo mai immaginato di dover assistere, per cui la Siria e l'Iraq sono diventati dei paesi martiri del patrimonio culturale mondiale. Non solo quello della Siria e dell'Iraq, ma del patrimonio mondiale. Si dice molto spesso, perfettamente a ragione, che l'Iraq e la Siria sono la culla della civiltà. E sono realmente la culla della civiltà. Si deve ricordare che questi due paesi si sono sacrificati con perdite enormi da parte di fanatici inconsulti che sono contro la cultura e contro soprattutto la multiculturalità.